Più libri vuol dire più punti di vista, e più punti di vista è sempre una maggiore libertà, maggiore conoscenza, e più conoscenza ha e più sei libero di scegliere. Le scelte libere si fanno in modo consapevole, quindi l'informazione più ce n'è e meglio è. Per quel che riguarda la televisione, io posso dire che in 15 anni, ormai sono quasi 15 anni che faccio questo programma, non ho mai dovuto subire censure, tante pressioni sì, però censure mai, quindi credo di essere in qualche modo l'esempio che se uno ha voglia di fare fatiche, di reggere, e ha anche un po' di passione e amore per questo mestiere, si può fare. Ho fatto diversi lavori sul generale Jab, ho realizzato la sua biografia, filmata, raccontata da lui medesimo, conosco la famiglia, quindi la mia testimonianza è legata proprio al rapporto diretto con lui e con la famiglia. È l'ultimo stratega militare vivente. Grazie a tutti.